La recente conferenza stampa ha segnato la presentazione del nuovo direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli e ha rappresentato un'occasione imperdibile per i tifosi dell'Inter per seguire gli aggiornamenti sulla situazione di Romelu Lukaku. Dopo la brusca partenza dell'attaccante dell'Inter, il giocatore è stato oggetto di paragoni con la squadra rivale della Juventus. Salve interisti, bentornati ad un'altra notizia dalla squadra nerazzura. Iscriviti per ricevere i prossimi aggiornamenti. In modo eloquente, Giuntoli ha condiviso le sue prospettive sul mercato, rivelando che la Juventus è completamente immersa in questo frenetico universo di possibilità. Ha assicurato a tutti i presenti che il team è attivo sul mercato, cercando informazioni e valutando attentamente le proprie opzioni. Mentre i media potrebbero esagerare le notizie, era chiaro che l'obiettivo della Juventus è investire pesantemente in artisti del calibro di Vlaovic, Chiesa, Kine e Milik, dimostrando la determinazione a costruire una squadra altamente competitiva. Tra queste aspettative esaltanti, Giuntoli ha preferito non rivelare troppo, in quanto il mercato è ancora nella sua fase iniziale e potrebbero riservare molte sorprese. Il dirigente ha rafforzato la sua fiducia nell'obiettivo principale, Vlaovic, ma ha anche accennato alla possibilità di considerare offerte irresistibili, se si presenteranno durante il periodo di trasferimento. Questa posizione non fa che sottolineare l'ambizione e la visione strategica della Juventus alla ricerca di un ulteriore miglioramento della propria rosa. A proposito di Lukaku, Giuntoli ha preferito mantenere il focus sulle iniziative della Juventus, facendo capire che il club non si aggrappa a speculazioni sull'impatto del giocatore belga sulla sua squadra. È una domanda che, per il momento, per loro non esiste. La conferenza stampa è stata la prova concreta dell'impegno della Juventus nel costruire una squadra di altissimo livello, pronta ad affrontare qualsiasi sfida si presenti. I tifosi dell'Inter, in particolare, dovrebbero essere consapevoli di come si svilupperà questa dinamica nel mercato dei trasferimenti e attendere con impazienza le prossime mosse e decisioni della Juventus. La battaglia per il predominio nel calcio italiano promette di essere ancora più intensa ed emozionante in questa stagione. Lascia la tua opinione nei commenti!